Buongiorno, bentornati a Modena, a questa seconda edizione del Motor Valley Fest. Un'edizione particolare, un'edizione che abbiamo deciso di continuare a sviluppare perché vogliamo qui, davanti al teatro dedicato a Luciano Pavarotti, il grande tenore modenese, continuare a confrontarci, a confrontarci sul tema dell'automotive, sulle innovazioni, sulle nuove tecnologie, perché abbiamo bisogno di riaccendere i motori. Quest'anno lo faremo in un altro modo, lo faremo con le connessioni nelle vostre case, nelle vostre aziende, lo faremo in modo interattivo, proprio perché il coronavirus ha distrutto una fetta di relazioni, ma noi vogliamo ricostruire relazioni, lavoro e progresso. Ecco perché noi oggi, a questo convegno internazionale, vogliamo ragionare dei motori, vogliamo ragionare di bellezze, vogliamo ragionare di nuove opportunità per guardare all'automotive, ad un settore strategico che vede Modena al centro, capitale dei motori, della terra emiliano-romagnola, la terra dei motori. Ecco perché vogliamo andare avanti, vogliamo guardare per ritrovare ancora una prospettiva, per ospitarvi nuovamente qui, quest'anno non abbiamo potuto farlo, per ospitarvi questo sito UNESCO di straordinaria bellezza, i nostri monumenti, i nostri musei, compreso il museo di Enzo Ferrari. E quindi dobbiamo continuare a costruire delle grandi opportunità. Noi abbiamo confermato questo appuntamento insieme alla Regione Emilia-Romagna perché vogliamo continuare a tenere il filo conduttore dell'automotive dell'Emilia-Romagna, vogliamo continuare a tenere la manifestazione, vogliamo continuare ad investire su un settore strategico per il lavoro, per la bellezza. Qui, in 40 km quadrati, ci sono le auto più belle del mondo. Quest'altro anno avrete modo di tornare a Modena per ammirarle nelle nostre piazze, ma io credo che sia importante che queste nostre straordinarie imprese continuino a produrre, garantire lavoro, creare progresso. Ecco perché abbiamo voluto mantenere questo appuntamento e questo convegno internazionale che davvero discuterà delle nuove tendenze, delle nuove tendenze del design, delle nuove tendenze dell'ecologia, delle nuove tendenze dell'elettrico e delle nuove tendenze dell'insieme dell'automotive mondiale. E lo facciamo anche mettendo a disposizione di Modena un'area che si chiama Masa e in quel segmento abbiamo messo a disposizione un pezzo della città per ragionare di come l'auto del futuro, l'auto a guida autonoma, l'auto che può creare le condizioni di nuove opportunità tecniche, possa andare avanti. Il convegno vede qui le miglior marche del mondo, vede qui le università, vede qui la nostra università che per noi è un riferimento certo nel settore. Noi dobbiamo andare avanti, proprio l'università di Modena e Reggio Emilia ha fatto un grande sforzo perché Modena Automobile Smart Area, un luogo dentro la città che l'amministrazione ha messo a disposizione per misurare le nuove tecnologie, per guardare la mobilità pubblica, per guardare alla mobilità elettrica ma soprattutto per guardare la mobilità di prospettiva, la mobilità autonoma eccetera. Quindi questa terra vuole essere terra di motori ma vuole essere anche una terra di sfida per creare ancora economia e benessere e naturalmente bellezza e futuro. Ecco perché quest'anno abbiamo confermato questa iniziativa ed ecco perché quest'altro anno vi invitiamo già qui con i motori accesi perché vogliamo continuare a garantire futuro, emozioni, passioni dalla terra di motori e dalla capitale che è la nostra città. Vi invitiamo tutti quest'altro anno ad essere con noi qui fisicamente a Modena per ammirare le bellezze, la forza e la passione di una grande comunità.